Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in un nuovo video di Ultimate Epic Battle Simulator E qua abbiamo un esercito di Giant Ogre, di Troll Giganti Abbiamo tantissime cose, abbiamo anche i ciclopi giganti Abbiamo Mi dissocio Muovere dieci galline qua che Co 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 Per favore Noi siamo passati di qua per prendere dei semi in mezzo al deserto che non ci sono, non so dove trovarli E praticamente bisogna di tornare qua in mezzo ma io non ho fatto niente, per favore Ok che mi sa che faranno brutta fine E dei ciclopi giganti Bruttissimi che hanno voglia di lanciare qualche pietruzza Guardateli Cattivissimi Allora Adesso io mi metterò qui E aprirò le porte C'è il cor Vabbè quello che è Alla battaglia Ok Qua va bene Vediamo Chi saranno più forti Secondo me le galline faranno brutta fine Grazie ma agli orchi Ok Cioè i troll giganti Allora Penso adesso quelle povere galline faranno brutta fine Povere galline E va bene Adesso apriremo la battaglia Tra tre Due Uno Attaccare No per favore Non abbiamo fatto niente E morte le galline Fine 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 le galline Ok adesso stanno arrivando Chi vi sarà dei più forti I troll giganti O i ciclopi giganti Non lo so Guardate che battaglia terribile Guarda I ciclopi sono Cioè i ciclopi lanciano delle pietre E i troll giganti sono lenti E sono molto robusti E hanno un'armatura molto spessa Invece i ciclopi non hanno niente addosso Non hanno un cavolo Sono nudi Purtroppo Guardate qui Che battaglia Terribile Guardate tutti i troll Che stanno arrivando E li trollano molto Beh Non capisco niente Guardate che battaglia Terribile Tutti che stanno combattendo Mi sta crashando A 5 fps Magari Però Non è possibile Non so Ma è morto un troll? Sì Stanno morendo i troll Ecco chi sta morendo I troll di più stanno morendo E i ciclopi? E' segnata la vittoria Per i ciclopi Bene Forse Magari perché Io ho la mania Che ogni volta La situazione Si ribalta indietro Quindi Potrebbero vincere I giant ogre Oppure Le galline Resuscitano E diventano Con Ma diventano Geneticamente Modificate E ammazzano tutti Dipende Però Mi sa che è la fine Per i giant ogre Perché guardate Quanti sono Ma non Non muoiono Ci sono Immortali E anche loro però Però sono super cattivi Guardateli Guardateli Ci stanno combattendo A gonfie vele Guardateli Questo è il capo dei capi Che sta arrivando Per frantumarli Ma purtroppo Non li frantumerà Tutti i bracci Che stanno per lanciare Guardate qua Che battaglia Guardate tutti i sassi Che sono sparati Chissà dove Oh cavolo Guardateli I troll Sono purtroppo Pochissimi E secondo me C'è un'unica cosa Che potrebbe salvare Tutti Ed è L'America Abbiamo bisogno Di aiuto Boom Eh Non so che ha vinto Non ha vinto nessuno Sono morti tutti Perfettamente È arrivata L'America Pum Levate Fumo Pum 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 Ok È arrivata L'America E ha lanciato Una bomba atomica Eh vabbè Ok ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto E ci vedremo Nella prossima puntata Ciao